Benvenuti al TGLIS della Giunta Regionale della Basilicata. La Task Force comunica che ieri 7 settembre sono stati processati 759 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 8 sono risultati positivi. Le positività riguardano 4 persone residenti a Potenza, una persona di nazionalità estera ospitata in una struttura di accoglienza, una persona residente a Policoro, una persona residente a San Giorgio Lucano e una persona residente a Lavello. Nella stessa giornata sono state registrate le guarigioni di una persona residente a Moliterno e di una persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero in isolamento in Basilicata. Con questo aggiornamento i Lucani attualmente positivi sono 64 e di questi 60 si trovano in isolamento domiciliare. Nelle strutture ospedaliere Lucane sono 5 i ricoverati. A Potenza una persona è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo. A Matera, nell'ospedale Madonna delle Grazie, tre persone sono ricoverate nel reparto di malattie infettive e una persona nel reparto di terapia intensiva. Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute, 378 guariti, 8 cittadini residenti in altre regioni e in isolamento in Basilicata, un cittadino residente in Puglia e ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera, 7 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata, 27 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata, un cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio e un cittadino diagnosticato in Puglia residente in Basilicata dove si trova in isolamento. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 60.629 tamponi, di cui 60.023 risultati negativi. Il prossimo aggiornamento domani 9 settembre.